Io sono qui per caso Ma improvvisiamo? Si Ciao ragazzi bentornati su VideoGirlsGuy Oggi ho deciso di parlarvi di un gioco molto particolare E visto che Nadia è a New York Ho deciso di invitare a giocare con me a questo gioco Il mio amico Christian Buona Stimatissimo da tutte le star di tutto il mondo Che cazzo è Christian Buona? Ciao Will Wush Questo gioco si chiama Goscurri E' un indie game sviluppato da un italiano Daniele Giardini Ciao Daniele E' Temporan E' ambientato in un futuro Tu sei una navicella Che corre verso l'infinito Perché davanti a sé e oltre Esatto E ha una strada davanti a sé che si crea E tu devi schivare gli ostacoli Saltare Fare girare Fare tutte queste cose Il tutto con quattro pulsanti E con una colonna sonora Meravigliosa Che è stata scritta da Isaac J. Martinson Grande Ed è veramente veramente molto difficile Il gioco è sviluppato per Windows, Linux e Mac E lo potete scaricare dal sito Che trovate in descrizione qua sotto Che comunque è www.goscurri.com Oppure mandate un'email a Virginia Che ve lo manda craccato Non lo mando craccato a nessuno Perché costa 4,90 euro Se non sbaglio No però è vero Sosteniamo i Sosteniamo i creatori I videogiochi Gli sviluppatori Assolutamente Soprattutto gli indie Assolutamente Se tra l'altro Spendete qualche cosiddetta di più Potete anche avere la colonna sonora del gioco Che è veramente fighissima Se non siete troppo presi Da cercare di non morire Leggete anche i cartelli Perché Daniele ha disseminato in tutto il gioco Sopra i tetti dei palazzi Delle frasi molto divertenti Tra cui la più famosa Ecco che è Don't panic Perché andrete sicuramente in panico Giocandoci E niente vi lasciamo al gameplay Speriamo vi piaccia Hard No Pro Come guai Pro 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 è difficile Bene Standa Destra Come guai Dritto Sì No 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 Scriver! 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 Se voi guardate nelle informazioni del video, c'è proprio il serial number del gioco. Ma non è vero! Non lo dai gratis a tutti? No! Però gratis ci sono le tette di Virginia! Wow! 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 No! Oh cazzo! Merda! Merda! Ho spaccato tutto ed è caduta la camera! Appello! Se vi è piaciuto mi raccomando andatelo a votare su Greenlight se avete un account Steam e dove c'è scritto comprense questo gioco se fosse su Steam scrivete YES! Che così questo gioco verrà anche messo sulla piattaforma di Steam. E' la moca! E' la moca! E' la moca della morte nera! E' la moca della morte nera! La fanno così! Grazie a tutti.